E' in edicola il nuovo numero dei quaderni di Alice Cucina, torci delle feste, grandi classici di tradizione, torte d'autore, tessere e tigli, e curiosità mignonne, con le scuole di pasticceria fotografate scattare e scotte. Grazie, per conoscere l'Italia, bisogna viaggiare. Per conoscere una città bisogna apprezzare la storia e l'arte. E quel fatto parte, bisogna sedersi a tavola. Grazie a tutti. 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 E saluto... Buon Natale, buon uomo testo! Buon 2019! Grazie a tutti Grazie a tutti I'm going back 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 I'm going back